Mi piace, infatti usavo solo Claudette Qualcuno è vicino a me Oddio non mi ha visto Il Leatherface Ce l'ha con uno Sono a Gen in mezzo Ma c'è la ruina C'era un cavolo di palle No mi prende Mi prende No io non so giocare E' una mappa del cavolo Perché non so Mi sta salvando questa Stato andando Sì vabbè ma Che sfiga però Stai con te E con chi altri Sto facendo gente E' la con me Non c'è la con me Noi, non è vero, non è vero, non è vero. con te? non più deve avere monitor abuse perchè non si sente molto giù di terrore perchè è monitor abuse? perchè in modo di terrore si sente tutto quanto è vicino vicino vado io vado io bravo faccio un genica se non ci vuoro vado lontano vado 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 No, non ce l'ha. E neanche si divincola. Forse ha sbagliato il DS, sai. Può essere. Ha sbagliato il DS. Hai salvato tu? Volevo curarla ma non si fa curare. Io sto facendo un genio. Un angolo della mappa. Che bello essere curati a farci. Aspetta. Guarda come mi insieme a vedere. Senti i raggiunti. Poi che strana. Sì. Secondo me la ponetura è lì. È lì. È un po' vicino. Troppo vicino. Troppo vicino per i miei gusti. Senti i raggiunti. Senti i raggiunti. Senti i raggiunti. Senti i raggiunti. Vabbè vatti che ti supero. Ma che tono spintino. Guarda che guasta. Dai facciamo i raggiunti. Lasciamo come non ci possono domani. Tanto gli altri non stanno facendo niente. Ecco. Allora un paletterino. Un altro di là. Tanto per io. Ma tanto non mi serve a niente che ci muoio. No vabbè. Tanto. Almeno la posizione è un pugnato. Quella è morta. Un pugnato io. Stai parlando con la più nabba del gioco. Ma tu sei una pro. Che dici. Dai. Invece. Arriva. Invece. Ci raccomando. A le pezzi. E' un'ultimo. E' un'ultimo. 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 ok bravissimo sono stati finiti due genita ne manca solo uno chissà dov'è l'altra non sta facendo niente no sono io no no siete due che dov'è perché io in questa mappa non trovi gen ok ora l'altra ho messo a fare un gen ok ti vengo a salvare io no è qui ok che bbq è sicuro l'hai visto? no è andata sull'alto è andata sull'alto è andata sull'alto è andata sull'alto no è andata sull'alto che c'è il bbq e ci vede da un tanto è andata sull'alto allora tu vai ah è morta addirittura è morta e allora ce l'abbiamo in saccoccia mentre che arriva è un grito fracido no comunque non è male che diciamo come l'interface no ce l'ha con me no resistiii guarda puro fare un gen ma resisti sto cavolo vai vai provo sto facendo il gen come va? che ansia? ah io sto giocando un po' ansia ci prego è finito questo gen no non venire verso di me ma che non so dove sei senti che sto facendo il gen e non venire sono a metà ce la puoi fare credo in te 60% dai ti prego finiscilo finiscilo non ci so più pallet oddio ne ha preso vai 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 80% vai 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 ce l'hai io no mi apprende no mi prende mi prende mi prende 90% no caspita nasconditi un armadietto bravo dai almeno l'ho tenuto un po' eh però non lasciarti andare stai messo nell'armadietto mi vede vedi dove sta andando in caso è qua vicino qui ok attento non venire alla no 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 di qua è andato proprio dove stai venendo tu ok è qui è qui mi campera campera addirittura si mi fai fai il giri aspetta che c'è un piano piano è girata attento attento che sta avvenendo non mi ha visto non mi ha visto zitta 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 non mi ha visto incredibile volta a scappare anche non ho visto l'uscita che falle ho e tu mai l'asconditino un armadietto piano piano niente mi vuole niente mi vuole ce l'hai eds ancora si fai chiusa l'uscita si lo so è troppo forte che è chiusa apri 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 un' un'uscita l'asconditino provo aprile adesso l'uscita sto per aprile nooo dove sei? ah lì sto qua ok lui sta andando nell'altra uscita vieni verso di me no ti prendi c'hai ds? ok vieni verso di me dai questo è per mi prendo mi prendo mi prendo vieni 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 vai 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 questo si ce la fai ce la fai vai eeeh ce l'abbiamo fatta grandissima eeeh e vai tutto il metodo tuo che hai resistito all'ultimo gen storicamente mamma mia che fatticone che hai fatto ragazzi hai registratam obvio mamma tiro di te brava 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 eeeh